in tutta italia si ragiona di come aumentare gli investimenti pubblici sulla sanità e che cosa fa la nuova giunta regionale nelle marche prova a cancellare un investimento da 250 milioni sulla nuova struttura ospedaliera tra peso refano della quale discutiamo da 30 anni è una cosa inaudita noi abbiamo bisogno di rafforzare sicuramente la sanità dell'entroterra magari attraverso le risorse del mess ma abbiamo bisogno di un ospedale innovativo moderno per tutti i cittadini della provincia di peso l'urbino perché chi non trova risposta qua non va pergola come qualcuno crede ma va in emilia romagna aumentando la mobilità passiva noi daremo battaglia non accettiamo un atteggiamento anti pesaro e anti provincia di peso l'urbino da parte degli eletti nel nostro territorio domani sarò il ministero della salute la prossima settimana chiesto un incontro urgente al presidente acquaroli